Maurizio Rosazza I, tutto ciò che dovete sapere sul concorrente di MasterChef e favorito dell'edizione speciale del talent di cucina più famoso d'Italia MasterChef All Stars Giovedì 20 dicembre ha inizio la messa in onda dell'edizione speciale del talent di cucina più seguito e amato dagli italiani, MasterChef All Stars Come suggerisce già il nome, i concorrenti, 16 in tutto, non sono degli aspiranti cuochi, ma dei cuochi che hanno già partecipato alle precedenti edizioni del programma e che tornano tra i fornelli del programma Sky per fare conoscere la propria cucina e dimostrare che è la migliore tra quelle proposte L'edizione più rappresentata è la seconda, da questa proviene Maurizio Rosazza Prin, uno dei concorrenti che ha ottenuto il maggiore successo televisivo dopo la partecipazione a MasterChef Maurizio Rosazza Prin, storia e curiosità.Nato a Como nel 1979, Maurizio è appassionato di scrittura e comunicazione Proprio questa sua propensione lo porta ad ottenere un posto come copywriter per una compagnia pubblicitaria In questi anni scopre anche la passione per la pittura e coltiva l'hobby per la cucina Nel 2013 decide di mettere a frutto la propensione per la cucina e partecipa alla seconda edizione di MasterChef Arrivando II Il successo riscosso durante il programma gli fa capire che può unire le sue passioni per progetti lavorativi disparati Apri un blog di cucina in cui mostra come dedicarsi a questa passione divertendosi, partecipa ad alcuni format televisivi in cui è chiamato a reinterpretare le ricette classiche con creatività, colpo di cucina e dei blind taste, e scrive un libro di ricette intitolato Capassanta Subito In questi anni è stato scelto anche come testimone al pubblicitario per alcuni prodotti Barilla e per la panna Chef Le Voila Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like